Ciao a tutti, dal vostro Marco Follese. Si è conclusa la prima settimana del Roland Garot a Parigi, torneo del grande slam su Terra Rossa. Il favorito numero uno Rafa Nandal è arrivato agli ottavi, insieme a Djokovic, Federer e gli outsider Zissi, Paz e Medvedev. I grandi protagonisti sono gli italiani con Sinner, Berrettini e Musetti che sono arrivati agli ottavi e invece sono stati eliminati Sonego e un deludentissimo Fognini che ha perso da De Bonis in 3-7. Ora negli ottavi per gli italiani si fa dura perché Berrettini dovrà incontrare Roger Federer. Secondo me ha possibilità anche perché Roger è stanco dalla partita di sabato che è durata quasi 4 ore e Roger si sta allenando per Wimbledon. L'obiettivo principale suo è di vincere Wimbledon su Erba. Durissimo invece per Yannick Sinner dove incontrerà per l'ennesima volta Rafa Nandal. La vedo è un incontro durissimo, però Yannick ha già messo in difficoltà in passato Rafa sulla terra battuta. Sarà un incontro toso anche per Rafa. Invece l'ultimo arrivato nel fa prodice italiano oltre a Yannick Musetti incontrerà il numero uno di Okovic. Qua è molto dura, però l'italiano non ha niente da perdere e se la può giocare tranquillamente. Fino adesso è un torneo molto molto bello con partite stupende. Peccato l'assenza di pubblico perché un torneo così merita il pienone con i Big Three. Però tra un po' si spera che aprano a tutti per vedere questi spettacoli. Vi aspetto alla prossima per il resoconto finale di questo bellissimo torneo. Un saluto dal vostro Marco. Ciao!